Bene, tre cose per cui sono grato oggi, è il secondo giorno di permanenza a Roma ed è davvero una bellissima città, ma in realtà la prima cosa da cui voglio partire quest'oggi è che ieri era il compleanno di mio papà, purtroppo nel video non l'ho detto ieri però per me è davvero una persona... vabbè mio padre è specialissima, ha fatto un sacco per me, fa un sacco da figlio devo dire che come tutti, umani, magari a volte ho sbagliato con lui però ecco voglio, spero che sarà ancora per tanto con me, quindi se stai guardando questo video papà, ciao e la seconda cosa è che si sta programmando un viaggettino qui nella zona eh Fiorello che zona? come? vabbè, lo scoprirete quando ci arriveremo, un indizio... si sceme! è l'ultima cosa per cui sono grato oggi è che... è che sono qui, sono qui, un saluto anche dal fiume, ok, a domani!